Nome? Marco Grani. Classe? Quarta C. A quale punto del torneo si è affermata la tua squadra? Semifinale. Chi la alza quest'anno? Noi. Marco Grani o Tullio Grani? Tullio Grani. Colarizio e Belleggia? Tutti e due. Piedi o piedi? Vieri. Bionda o Mora? Mora. In un torneo di soli professori, chi vincerebbe? Pino. Che squadra tifi? Inter. Nella tua finale utopica, chi vede sfidarsi? Quinto D contro quarto C. Pratesi o Montani? Montani. Giocatore più forte del torneo scorso? Omar Budlani. Giocatore più scarso? Diego Pugliesi. Ragazza più bella del torneo? La sorella dal bello. Quanto ha bruciato il rigore in semifinale? Molto. È vero che hai pianto? No. Quanta emozione quest'anno da 1 a 10? Mille. Cardinali o Di Clemente? Di Clemente. Baldassarri o Butlal? Butlal. Santini o Santucci? Santucci. Santini o Pratesi? Pratesi. Santini o Aria? Aria. Qual è il soprannome di Santini? Credini. Quale nazione speri di rappresentare? Italia. Hai dei fetiche? Sì. Quali? Cantante preferito? Suara. Dico Pandetto o Di Pre? Di Pre? Dico Pandetto o Mariuana? Mariuana. TGOS Cup o SAC? SAC? SAC. Perché è incredibile. Cosa significherebbe per te vincere il torneo? Moltissimo. Dai un nome alla nuova mascot della Serie A Caro? SAC Scott. Fai un saluto alla telecamera.